Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao ragazzi, è un video, è un video, ciao ragazzi, tu bene? C'è una mano là sotto, non vedo, vedevo la mano, non capivo. Se facciamo uscire lo scarico con le crepe, bello, la facciamo rat? Sì, certo, gli allunghiamo le crepe, poi con lo scarico esce così, va che figlio una figata. Vedi, a Campogrande si sfoggiano i vei. Bravo, 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 ci mettiamo però il teschio che apre e chiude la bocca. Facciamo così, facciamo così, mi piace.